buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 30 dicembre 2023 questa è l'ultima rassegna stampa dell'anno poi ci ripeteremo il 2 di gennaio prossimo perché poi c'è la festa del 31 dicembre quella del primo gennaio e quindi ci risentiremo il 2 quando riprenderemo il nostro cammino con il 2024 ma intanto oggi passiamo all'almanarco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi oggi è santo eugenio di milano vescovo visse nell'ottavo secolo venne in italia eugenio al seguito di carlo magno di cui era padre spirituale la sua sua indole era molto decisa e decise con grande determinazione il rito ambrosiano dallo stesso papa che voleva uniformarlo con il rito romano ma poi anche carlo magno era di quest'idea ma eugenio resistete e il rito ambrosiano sopravvive ancora oggi questo è santo eugenio ora passiamo invece alle previsioni del tempo ancora oggi una giornata all'insegna della stabilità con alternanza tra nubi e schiarite ma più schiarite che nubi il clima rimane mite per questo periodo i prossimi giorni dovrebbe cambiare clima mite per il periodo venti sostenuti da sud ovest sulle coste con una tensione debole nell'interno lo stesso debole ma più da sud che da sud ovest ovest sud ovest sulle coste le temperature 8 gradi la minima 13 la massima il sole sorge alle 7 e 51 e tramonterà alle 16 e 33 ed ora passiamo alla lettura dei giornali apriamo il corriere adriatico sulla pagina di fano e vediamo l'apertura l'apertura è dedicata alla conferenza stampa del sindaco e della giunta massimo seri ieri ha riunito la giunta in un luogo in un luogo significativo la sala morganti la sala morganti del palazzo malatestiano dove è stata allestita la mostra del perugino l'unico quadro esposto è quello della madonna e santi dipinto da pietro vannucci per il convento francescano di san lazzaro san lazzaro santa maria nuova quando appunto la chiesa era fuori delle mura della città poi fu trasferita all'interno quando poi il contado di fano era invaso molto spesso da soldatesche comprese quelle del valentino ebbene un luogo significativo per caratterizzare per significare la cura la manutenzione la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e artistico uno dei punti che ha toccato il sindaco durante la sua conferenza stampa che fano sia una bella città ormai lo conoscono lo riconoscono tutti i visitatori e seri non ha mancato di evidenziare il contributo dato alla sua dato dalla sua amministrazione per renderla ancora più bella ebbene l'elenco è stato piuttosto consistente dalla trasformazione del pincio alla ristrutturazione di via garibaldi alla passeggiata romantica della darsena all'arredo di piazzale rosselli ai lavori in atto in piazza marcolini in viale battisti nel waterfront di sassonia e di torrette il parco dell'aeroporto il progetto di piazza andrea costa il rinnovo dei passeggi e tanto tanto altro limitandosi poi al 2023 il sindaco ha definito quest'anno un anno pirotecnico perché veramente secondo il sindaco sono state fatte di tutti i colori e di tutte e di tutti e di tutti i generi per quanto riguarda i lavori si sono concretizzati non sono lavori improvvisati per il periodo elettorale ha detto il sindaco sono lavori che vengono da lontano sono stati progettati tempo fa hanno seguito un lungo iter progettuale burocratico come quello richiesto appunto dalle normative vigenti e alla fine sono giunti alla fase esecutiva in questo momento sono in corso lavori per 80 milioni di euro più 60 milioni sono pronti per iniziare 140 milioni in tutto la città che la giunta serie ha voluto costruire è una città di relazioni una città dove gli abitanti possono ritrovarsi possono confrontarsi possono stare insieme e quindi attuare quella città solidale che dovrebbe aiutare soprattutto le famiglie più deboli e non sono mancati interventi anche in questo settore in modo particolare il sindaco ha ricordato il centro di quartiere di Gimarra il sottopasso di ponte sasso e poi servizi alle persone con sostegni dati alle famiglie bisognose interventi fatti a livello preventivo per combattere la devianza dei giovani le iniziative avviate dall'assessorato alle pari opportunità i cantieri per la realizzazione di nuove scuole che in questo periodo includono tre asili nido quello di cucurano quello di bellocchi e quello del vallato e poi e poi la città dei bambini la città della cultura la città di vitruvio e via dicendo insomma un anno corposo di iniziative e infatti il Corriere Adriatico inizia dicendo che più che una conferenza di fine anno è stata una conferenza di fine mandato perché serie poi ha ripercorso un po' questi dieci anni di attività politica amministrativa alla guida della città di fa quello che cambia lo si vede anche in questo articolo a fondo pagina del Corriere Adriatico in piazza l'accoglienza della città di vitruvio in piazza c'è lo IAT l'ufficio informazioni turistiche che è stato trasferito da Viale Battisti in piazza 20 settembre da alcuni mesi da diverso tempo diciamo ebbene questo ufficio si amplia invade anche l'urpe che è l'ufficio di relazioni con il pubblico il cui ingresso è all'angolo di via froncini acquista quindi più spazio e soprattutto costituisce un presidio iniziale per tutti coloro che vogliono conoscere la città non solo dal punto di vista informativo ma anche dal punto di vista delle suggestioni che la romanità la città di vitruvio esercita nel visitatore infatti verrà accompagnato nelle visite delle aree archeologiche nelle visite dei musei museo romano museo della flaminia nei pressi dell'arco di augusto al pincio e soprattutto la prima impatto sarà dato dalla domus che è sottostante proprio l'ufficio turistico di piazza 20 settembre e quindi una accoglienza ancora più calorosa ancora più diciamo così completa che potrà suggestionare maggiormente il visitatore che giunge a fano giriamo la pagina e vediamo un articolo che riguarda la risposta che il presidente del fano calcio russo mario russo ha dato alla intervista rilasciata al candidato sindaco giuseppe de leo il quale ha affrontato i temi dello sport iniziando proprio dalla sorte del fano calcio fano calcio che in questo momento non naviga in buone acque e che insomma lascia molto a desiderare e quindi anche stato tirato in ballo la presidenza la presidenza che non fa mistero di voler lasciare questa squadra però ancora non l'ha fatto però insomma russo si è un po risentito delle parole di de leo rimango perplesso ha detto nel leggere le dichiarazioni di un asperante primo cittadino che senza conoscere il sottoscritto nelle vicende dell'alma con facili promesse immagina di costruire un consenso elettorale insomma questa invasione in un così sporadica in un settore che è un po complesso perché ha diverse sfaccettature non è affatto piaciuta a russo e vedremo che fine farà l'alma il prossimo anno si spera comunque che i risultati siano diversi e cambino invece è un bellissimo risultato quello ottenuto per quanto riguarda la guinza pensate finalmente dopo tanti tanti anni sono stati assegnati i lavori e quindi siamo nella fase esecutiva alleluia guinza assegnati i lavori del traforo acquaroli un'opera fondamentale appalto vinto dal consorzio stabile europeo con un ribasso del 14,7 per cento baldelli l'assessore francesco baldelli assessore alle infrastrutture al lavoro per altri lotti aggiudicati dunque i lavori per il completamento della prima canna della galleria della guinza poi si passerà al progetto del secondo tunnel perché insomma la strada deve avere i due essensi lo ha annunciato ieri il governatore marchigiano francesco acquaroli intervenendo alla conferenza stampa di fine anno organizzata ad ancona saranno utilizzati oltre 94 milioni di euro per adeguare l'infrastruttura mai aperta dopo tanto tanto tempo e questa è una bellissima notizia di fine anno invece per quanto riguarda si parla molto di bilanci in questo periodo sono tutti i sindaci che fanno le conferenze stampa di fine anno poi si sono approvati anche i bilanci preventivi ma il bilancio che si è approvato a pergola è stato un bilancio una discussione che è mancato per quanto riguarda la mancata presenza appunto della opposizione la minoranza assente per protesta e il bilancio passa ovviamente alla unanimità la seduta sovrapposta agli impegni in parlamento e regione dei fratelli baldela e baldelli che cosa lamentano i fratelli baldelli lamentano che i consigli comunali di pergola loro sono consiglieri ugualmente quindi sono rappresentati rappresentativi della minoranza consigliare viene convocata sempre quando ci sono dei grossi impegni sia in regione che in parlamento e quindi loro non possono partecipare insomma questo andazzo viene considerato come un un modo per così tagliare le gambe alla opposizione e quindi c'è questa protesta vediamo anche la pagina di Senigallia a Senigallia si è parlato spesso negli ultimi tempi di presenze turistiche di eventi che attirano tanti tanti visitatori però a conti fatti i visitatori sono mancati in una percentuale del 4,6 per cento insomma sono mancati esattamente vediamo se trovo il numero sono mancati 40 mila presenze turistiche perse da gennaio ad agosto rispetto al 2022 mentre Pesaro aumenta e lo si dice perché ha aumentato anche 5 il numero degli alberghi sono stati aperti 5 nuovi alberghi a Senigallia invece se ne sono persi due e quindi questo ha causato anche una perdita di presenze può essere così però c'è un punto interrogativo emorragia di turisti in otto mesi ebbene che cosa è accaduto il sindaco non fa drammi il sindaco Olivetti l'opposizione attacca l'assessora Romagnoli socia di un albergo e poi vediamo che un drone un drone che era in perlustrazione da parte della protezione civile scopre un relitto che è affondato a pochi metri dalla costa forse una cisterna trascinata dal Misa durante le alluvioni è rincorso un addestramento si trova a 170 metri dalla costa sopra il luogo della guardia costiera perché può costituire un pericolo per la navigazione e vediamo delle notizie che riguardano anche la pagina di Pesaro dove l'apertura è dedicata eccola qua dedicata all'auditorium Scavolini questo palace vecchio che è da tanti anni oggetto di lavori una riqualificazione una ristrutturazione molto complessa molto difficile che ha implicato molto molto tempo ora però avviene l'inaugurazione e viene durante poi l'anno in cui Pesaro è capitale nazionale della cultura ebbene il 29 febbraio giorno del non compleanno di Rossini che quest'anno però si festeggerà verrà anche l'inaugurazione del nuovo auditorium Scavolini la consegna di un'opera così tormentata come il vecchio palace segnerà questo mandato ha detto il sindaco Ricci grazie alle risorse per l'innovazione intercettate con il progetto delle tecnologie emergenti il nuovo auditorium beneficerà anche di un progetto artistico a sé con videoproiezioni videomapping sulle facciate esterne e all'interno della struttura per celebrare il meglio l'anno della cultura quindi l'inaugurazione sarà veramente suggestiva con queste videoproiezioni che ormai insomma costituiscono la meraviglia di tutte le inaugurazioni e di tutte le suggestioni esercitate dagli ambienti di pregio ah vediamo l'articolo che tira in ballo il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli niente autocandidature dice il titolo ma resto a disposizione ebbene il sindaco Palmiro Ucchielli è inossidabile veramente ha fatto due legislature a Vallefoglia ma se sarà possibile farne una terza su richiesta appunto delle forze politiche e dei cittadini Palmiro Ucchielli non si tira indietro è ancora perfettamente in grado di reggere la guida di un comune e il bilancio che ha tratto per l'ultimo anno è certamente un bilancio positivo Ucchielli nel 2024 vedrà scadere il suo secondo mandato da sindaco ma appunto non si tira indietro ebbene quello che è stato fatto è stata una modernazione una rimodernazione di tutto il territorio un viatico per un anno di progetti da ultimare nuove inaugurazioni in vista prima di tutto il nuovo teatro Giovanni Santi a bottega moderno e polifunzionale intanto si chiude in 2023 intenso e già ricco di nuove opere portate a termine come il raddoppio del depuratore un piano di asfalti che vede la maggior parte delle strade rimesse a nuovo quindi veramente è cambiato il volto per quanto riguarda il territorio e con questo chiudiamo il Corriere Adriatico e diamo un'occhiata invece al resto del Carlino dove ovviamente non mancano gli inserti siamo a fine anno gli inserti che riguardano gli oroscopi e quindi potete sbizzarrirvi a vedere il vostro futuro la pagina di Fano si apre ovviamente con la conferenza stampa del sindaco Massimo Seri così abbiamo abbellito la città più vivace con ottima qualità della vita il sindaco tesse le lodi della sua amministrazione nella tradizionale conferenza stampa di fine anno Fano ha cambiato volto da piazzale Marcolini e Rosselli fino a Viale Battisti continuando per la darsena sì ci sono stati veramente dei interventi pregevoli in città si sono qualificate diverse strutture, diverse vie, diverse piazze e questo incide anche sulla qualità della vita perché prima con il degrado magari questi luoghi erano un centro di appuntamenti di convegni per persone un po' così insomma non certo qualificabili in modo corretto ed ora invece con la qualificazione di questi posti la cosa cambia e quindi abbiamo un centro più frequentato dalla gente e quindi più sicuro e meno pericoloso se le risorse saranno inserite nel mille proroghe si prosegue se no niente e questo invece è una dichiarazione che si riferisce a Gimarra Gimarra, la variante di Gimarra forse ci sarà l'addio ai 20 milioni che la regione era stata disposta a concedere per realizzare un miglior collegamento tra Fano e Pesaro se le risorse saranno inserite nel mille proroghe bene altrimenti addio ai 20 milioni però ci sono tanti, tanti cantieri ancora in corso di esecuzione interventi negli impianti sportivi tra cui quelli di Vallato e Sant'Orso ci sono le retatorie c'è il futuro museo archeologico per il quale sono stati recuperati 6 milioni di euro e poi c'è tutta la partita della biblioteca federiciana con il progetto Cucinella che dovrebbe essere una delle meraviglie della nostra città Caso Aspe, bloccata la riforma, tinti, è un atto di arroganza il presidente dell'ambito sociale 6 protesta contro la decisione adottata dal Consiglio regionale nei giorni scorsi c'è stata addirittura una conferenza stampa convocata dal Comitato dei Sindaci dell'ambito sociale numero 6 che è insorto contro la decisione della Regione di spostare appunto la trasformazione dell'ambito sociale in azienda di servizi alla persona addirittura alla fine del 2024 questo non farà altro che danneggiare secondo Seri i servizi che verranno dati appunto alle persone più deboli in scena l'anteprima pilota dell'ultimo lavoro di Secchiaroli l'evento questa sera al cinema a Masetti al multiplex Giometti anteprima pilota dell'ultimo film del produttore degli sbancati Henry Secchiaroli due teste di una nuova produzione che riguarda Fano c'ha due attori fanesi molto molto simpatici Beniamini del pubblico quali sono Giorgio scusate sono vediamo un attimo i protagonisti di queste di questi sono due veramente attori che sono i Beniamini del pubblico fanese perché poi hanno calcato il teatro Politeama con tante tante commedie dialettali un'anteprima che poi vedrà insomma l'opera tutta completa più tardi nei prossimi mesi nel corso del 2024 a Cattoceto arrivano più agenti e più tecnologia il sindaco Enrico Rossi 22 i dispositivi di monitoraggio che sono stati messi in rete e connessi nella sede della Polizia la sicurezza è un elemento importante anche nell'entroterra dove spesso arrivano bande che colpiscono fanno furti e poi se ne vanno fuggono per le vie in altre regioni Valcesano è in mezzo servizio i presidi di guardia medica sarà così anche nel prossimo mese purtroppo a Pergola, Mondolfo e a Mondavio niente miracolo dell'anno nuovo continueranno a funzionare a Singhiozzo i presidi di guardia medica della Valcesano ubicati appunto a Pergola, Mondolfo e a Mondavio con una percentuale di copertura dei turni che oscilleranno tra il 41 e il 70% quindi anche qui si procede a Singhiozzo la giunta comunale guarda avanti e indietro gli ultimi dieci anni sono stati molto molto intensi ad Urbino il primo cittadino non nasconde nella sua conferenza stampa di fine anno la speranza di potersi ricandidare per una terza volta se passerà l'accordo in trattativa a Roma ci sono diversi sindaci che vogliono ancora continuare perché poi hanno imbastito tanti tanti progetti e vorrebbero vedere la loro esecuzione e quindi il loro completamento vediamo anche questa serie di articoli che abbiamo qui nella seconda mezza pagina della pagina di Urbino del resto del Carlino un nuovo PRG dopo le elezioni un impegno di Maurizio Gambini è stato assunto altro personale lo dice Marianna Vetri sono gli assessori della giunta Gambini che hanno poi parlato ciascuno del loro settore tanta attenzione per il sociale Elisabetta Foschi collaborazione con le scuole Francesca Fedeli fatta molta promozione Roberto Cioppi sono appunto gli assessori che vedete qui in questa fotografia a Cagli cala la popolazione residente il 2023 si chiude a quota 8.031 nuovi nati 46 i morti 118 ovviamente l'equilibrio in questo caso è manca non c'è non c'è c'è una un disvalore per quanto riguarda la differenza tra nati e morti uccisa da un alto mentre attraversa la strada tragico incidente nella serata di ieri in via Michelangelo ad Urbania la circonvalazione di Urbania la vittima è una settantenne investita da un trentenne e qui l'ennesimo incidente che si è verificato appunto anche alla fine dell'anno prima di chiudere voglio segnalarvi anche qualche notizia di sport che prendiamo dal Corriere Adriatico vediamo il futuro della visse la visse vuole un ritorno ma senza tanta sofferenza il direttore Menga ha il lavoro per poter chiudere un paio di trattative per nuovi acquisti per rinforzare la squadra resta da capire se la società riuscirà a non privarsi di Silla e di Di Paola per quanto riguarda il Fano Fano carta bianca gli over annullata l'amichevole di oggi il presidente russo non ostacolerà eventuali uscite gli stipendi invece sono ancora purtroppo bloccati al mese di novembre e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta vi augura un felice anno nuovo e noi ci risenteremo come ho detto il 2 gennaio prossimo buona giornata e noi ci risenteremo